Fere Dimmi Dove mi hai portato? Secondo te dove siamo, scusami Stef? Dove siamo? Non lo voglio dire Fere E poi perché sei così piccola questa volta? Me lo spieghi? Perché sono un baby Enderman Un baby Enderman Esatto E non bastava essere un Enderman normale? No, mi piacciono i baby Quindi mi sono trasformata in un baby questa volta E soprattutto Comunque Se ti posso guardare negli occhi È perché sono anche io un Enderman Esatto Stef, esatto Non ti sei ancora guardato allo specchio? No, non mi ero ancora guardato stamattina allo specchio Fere Allora, quello che ti volevo dire È che ovviamente ho stretto amicizia anche con gli Enderman Ok Perché io desidero di portarti a casa loro Sei felice? Molto, grazie Per vedere come vivono gli Enderman? No E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Stefano Che si giocava a Minecraft E oggi siamo qui per vedere la vita degli Enderman E Stefano è molto felice, vero? Moltissimo Guarda, non mi era bastata l'esperienza dei Creeper Dovevamo per forza fare anche gli Enderman Questo sarà ancora meglio Stef Sarà ancora meglio Beh, di sicuro fanno più paura E ho paura di guardarli negli occhi A me piacciono un sacco gli Enderman Mi piacciono un sacco come mob Quindi non vedo l'ora di presentarteli Ok E piaceranno anche a te alla fine di questo video Ok, allora Dato che ormai sono qui Mi hai trasformato Mi hai torturato Mi hai fatto di tutto e di più Partiamo E però questo oggi voglio fare un pochettino le cose in maniera diversa Ok, ci sto Nel senso, la scorsa volta hai detto il mio amico Creeper Il mio amico quello, il mio amico là Ma era davvero il mio amico? Però non mi dato chissà quelle informazioni interessanti sui Creeper Questo oggi invece voglio proprio sapere Come vivono gli Enderman su Minecraft Ok Nel senso, quando noi non li sconfiggiamo Li combattiamo Li affrontiamo Come vivono loro? Come passano il tempo, Fere? Dimmi un po' È ovvio, Stef Come puoi non arrivarci? Scusami Non lo so Mangiano Giocano Cosa fanno? Giocano a nascondino Giocano a nascondino Sì, esatto Nascondino Sì Cioè quello che giochiamo noi nei video Loro lo giocano normalmente nel tempo libero Sì, ma loro sono più bravi, Stef Ok Ancora non sai perché Ma loro sono molto più bravi Per quello si divertono Perché è molto più difficile Rispetto al classico nascondino che noi giochiamo Ok Quindi ci trasformiamo in due Enderman E ci sfidiamo a nascondino adesso? Esatto Va bene Sei pronto, Stef? Prontissimo, Fere Allora, finiti di sedere bene Perché adesso ti farò vedere una magia A cui tu non crederai E neanche vedendola Ok Sei pronto? Sei pronto? Sì Allora, aspetta Ne devo trovare uno che sta un po' fermo Questo gli attira le spalle Ok Lo vedi? Hai preso anche te stessa, sappilo Vabbè, pazienza, guardalo Cioè praticamente Rimangono gli occhi visibili Esatto E le particelle Loro, esatto Usano queste pozioni Per rendersi così Ok E si nascondono perfettamente, Stef Cioè non li vedi neanche tu A parte gli occhi Quelli un po' tradiscono Ma anche le particelle Le particelle fanno un casino Vabbè, ma le particelle sono ovunque Cioè guarda Secondo me non sono così forti a nascondino Cioè io penso di sucrassarli, Fer Secondo me no Secondo me sì Adesso voglio provare un esperimento Ok Secondo te posso mettermi il cappello E diventare un Enderman invisibile? Non credo, Fer Però se vuoi provare, provaci Io si provo Come sono? Che succede? Non mi dici nulla? Sei invisibile Sono invisibile con gli occhi? Sì Quindi funziona? Sì Oh mio Dio Hai fatto? Sì, sono nascosta Sei nascosta? Sicura? Sì Ok, allora Aspetta, aspetta Mi dai un secondo Lo cambio in nascondino Ok Mi metto a guardare qua per terra Ok, vai Fatto? È bellissima questa cosa Io non ero sicura si potesse fare È bellissima E infatti tu mi hai anche screditato Dicendo Non si può fare Invece si poteva fare, Steph Mi dispiace Vedo delle strane particelle Da queste parti Ma io non sono lì, Steph C'è per caso una fere? No Ah no, perché sono quelli dell'Enderchest Infatti, diciamo Non sono lì Ok Ok Quindi non è nascosta lì Da queste parti Non la vedo Continuiamo a scendere E qui non c'è Allora, vedi Nei nascondini normali Tu mi avresti già trovato Se non mi trovi Vuol dire che gli Enderman Sono molto più forti, Steph Usate, permesso Non avresti speranze contro di loro Devo trovare la signorina Allora, è lei qui dentro Lo sappiamo tutti e due C'è l'Enderchest Che c'è? Guarda il mio schermo Hai gli occhi viola Sul vetro viola E le particelle Combinate a quelle dell'Enderchest Infatti Cioè, il trucco che volevo fare Era combinare le particelle Per non farmi notare E mimetizzare gli occhi nel vetro Capito? Era un buon nascondiglio Aveva senso Era un buon nascondiglio Complimenti, Fede Grazie Ok, quindi mi hai dimostrato Che gli Enderman Si divertono a giocare a nascondino E passano un sacco Del loro tempo così Ed è una cosa molto carina Se potresti diventare in questo Sarebbe fantastico Sarebbe fantastico Ma farei anche un sacco di scherzi A tutti Cioè, pensa che figata Sarebbero la cosa migliore Esattamente Ok, però adesso Tu mi hai fatto vedere appunto Come passano il tempo Quindi come si divertono Ma io immagino Che facciano anche qualcos'altro Cioè, non credo Che loro restino 24 ore su 24 A giocare a nascondino Quindi dimmi un po', Fede Che altro combinano? Che altro fanno? Ovviamente, Steph Non giocano solo a nascondino Cioè, che domande mi fai? Allora, tu sei benissimo Come chiunque altro Su questo pianeta Terra Ok Che gli Enderman Sono famosi per rubare i blocchi Ma tu ti sei mai chiesto Perché rubano i blocchi, Steph? Perché hanno qualche strana Malattia mentale Che li fa rubare i blocchi Al posto dell'oro Allora, non li criticare, Steph Allora, così stiamo già partendo Col piede sbagliato Cioè, non va bene Ok, quindi allora Devi essere pronto ad ascoltare Rubano i blocchi per un motivo Esatto E qual è questo motivo, Fede? Perché gli piace costruire Mi sembra ovvio Gli piace costruire Sì, esatto Agli Enderman Esatto Sei sicura, Fede? Certo Ma te l'hanno detto Lo stai inventando No, me l'hanno detto loro Ok, va bene E poi io ti vorrei anche chiedere Secondo te dove siamo adesso? Perché noi stiamo entrando in questa casa, ok? Ma ti sei chiesto chi l'ha fatta? Come mai è qui? No, non te l'ho neanche chiesto Pensavo l'avessi fatta tu, Fede No, non l'ho fatta io Ah E che cos'è allora? È la casa degli Enderman Vado a vederla? Sì, sì È molto bella Perché oltretutto Sono bravi architetti, Steph Beh, se gli piace costruire È normale che siano bravi Allora, fammi scendere un attimino Fammi girare E questa è la casa degli Enderman Mi sembra logico Cioè di chi Altro vuoi che sia questa casa Noto una somiglienza con i Creeper Mi sa che qua c'erano tutti i mob di Minecraft Questa cosa di essere un po' egocentrice Vabbè, non te la faresti una casa con la tua faccia? No, no Non ne sento il bisogno Io probabilmente sì Quindi li capisco L'importante è che sia una bella casa Non sento questo bisogno C'è da dire che però Abbiamo anche appurato Che gli Enderman sono più bravi A costruire dei Creeper Perché quella dei Creeper Era molto semplice E questa invece è bella Allora, questa qua è una figata pazzesca Cioè Lo so Che poi fanno pure vedere Come loro sono riusciti a procurarsi i blocchi Perché appunto Fanno vedere loro stessi Che hanno appena rubato un blocco Ovviamente Quindi è tutto un circolo Quindi abbiamo il blocco rubato Che è una sorta di casetta Che dove eravamo dentro Dove si era nascosta a fare Esatto E poi abbiamo tutto l'Enderman Che è dove si può entrare Dove eravamo saliti prima Sì Perché io ho salito le scale In effetti non mi ero accorto Che era il corpo dell'Enderman E qui sopra quindi C'è un'altra Diciamo stanzina Dove ci sono altri oggetti È una sorta di passaggio Perché poi da qui tu esci Vedi Tramite il braccio E raggiungi l'altra casetta Vedi Che figo È molto bella questa Sì Che figo Ma perché mi hai dato un arco E delle frecce Allora perché adesso Ti mostrerò lo sport preferito Degli Enderman Cioè secondo te Come fanno a tenersi così magri Senza fare sport Beh me l'ero sempre chiesto Però pensavo che fosse Perché si teletrasportano Di continuo E quindi consumano Un sacco di calorie No però Hanno anche bisogno Di fare sport Ok Come tutte le persone E hanno uno sport preferito Certo Il calcio No Basket Se ti hai dato un arco Secondo te che cos'è Tiro con l'arco Tiro di precisione Non sapevo fossero arcieri Non proprio Non è che fanno gli arcieri Ok Fanno il bersaglio mobile Fanno il bersaglio Mobile Mobile Sì perché Allora Ti dico Che è impossibile Prendere con una freccia Un Enderman Quindi loro sono talmente abili Che si allenano A spostarsi dalle frecce In automatico Capito Allora Tu mi stai dicendo Che se io sparo all'infinito Qualsiasi Enderman Non potrò mai E puoi mai colpirlo Esatto Vedi come si teletrasporta Ancora prima che la freccia Gli arrivi Oh mio Dio Hai visto? Oh mio Dio Non lo puoi colpire Steph Ma a vero Mi dà fastidio sta cosa Scusa Altrimenti Usare solo il teletrasporto Sarebbe noioso Quindi l'hanno reso Anche utile Questo teletrasporto E quindi Loro si divertono A scrivere le frecce Esatto Ma anche da attaccato Ti ha schivato malissimo Guardalo C'è incredibile E funziona anche Con altri oggetti Che si possono lanciare Posso provare? Eh prova Non lo so Allora Allora so per certo Questo delle frecce Però non ti so dire Prova Ok abbiamo Cosa gli vuoi tirare? Le uova fere Ah Così li sporco No stai Non li puoi Vieni qua È difficile mirare con le uova Uh Ha funzionato Sì sì Ha schivato Ok Quindi con qualsiasi oggetto lanciabile Quindi non li posso sporcare con le uova Vediamo con le palle di neve Ok Niente Uguale Non puoi colpirli con qualsiasi cosa Che viene lanciata Quindi li devi combattere corpo a corpo Esattamente E quindi loro fanno questo sport Ho capito Questa verifera era una cosa molto interessante È divertente vero? Non sei curiosa di vedere Come vede un Enderman? Sì molto Soprattutto perché a me piacciono davvero davvero tanto Quindi sono curiosissima Ti dico Ti preparo È più figo di come vede il Creeper Io te lo dico Aspetta voglio provare a indovinare Vede tutto viola? Il Creeper vedeva tutto verde E lui tutto viola No Non lo so davvero Te lo faccio vedere E mi devi dire a che cosa equivale Vai Vai Ok Mi devo attaccare Al suo bel corpicino Ehi Dimmi che hai capito Ma vede in negativo Esatto cara Perché Vedi che gli altri Enderman li vede bianchi Quindi tra di loro Loro pensano di essere bianchi Non sono neri Poi per terra Risulta tutto un colore molto strano E se guardi I miei capelli Guarda il mio personaggio Lo vedi che è totalmente negativo Sì ma la cosa più divertente Sono queste cose che loro vedono verdi Ma che in realtà Se ricordo bene Sono viola Sì è viola Il resto è sabbia E infatti anche le particelle Scusami Loro le dovrebbero vedere Se hanno un altro vicino Aspetta vediamo un pochettino Se ci riesco Se hanno qualcuno vicino Vedi che vedono le particelle verdi Invece che viola La vedono bianca e verde È verde Bianca e verde Certo E quindi non possono neanche Ammirare la bellezza E la sai un'altra cosa particolare Ok Che gli Enderman Quando stavano in beta Avevano gli occhi verdi Uh Eh già Ma ne sei troppe Eh la so Sono andato su Google Ho cercato dieci cose che non sai Sugli Enderman E poi ho fatto il figo Ah ok Ecco perché Ecco perché Mi sembra Mi sembrava logico Io questa non me l'aspettavo proprio Assolutamente no Perché è molto strano Allora c'è un'ultima sorpresa per te Ok vai Ok credo Aspetta fammi vedere se magari mi sono dimenticato qualcos'altro No Ok Allora Ti faccio Togliere la game mode No mi attaccano Steph Lo so Cioè io ci sono amica ma non di tutti Capisci Allora Vai in game mode 2 Ok Ho sbagliato Game mode 1 scusami 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 prima che ti attaccano Ma siamo già nella 1 Ok Sì infatti devi restare lì Ok Prendi la zucca Ok la zucca Ok Aspetta Non mi dire che hanno paura della zucca No no meglio Ok l'ho presa La indossi Ok E vai in game mode 0 Ok Io schiaccio invio eh Fatto Sì Fammi vedere se ti posso colpire Ok Adesso vai davanti agli enderman E guardali in faccia Allora vai 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 Cerca qualsiasi di loro Guardali in faccia Non mi attaccano Già Gli piacciono le zucca allora Però Gli piacciono anche le zucca Sono buon gustai C'è un problema Dimmi Può capitare Che dato che loro rubano i blocchi Che ti rubano la zucca Dalla testa E quindi a quel punto Li riguardi in faccia E ti attaccano Aiuto Mi sta venendo l'ansia Ho paura di quelli che ho intorno In ogni caso Questa è una cosa simpaticissima Dato che non li stai guardando Direttamente in faccia Dato che tutti sappiamo Che se guardi in faccia Un enderman Inizia ad attaccarti Dato che con la zucca Non li stai guardando In modo diretto In faccia Loro non ti attaccano È stracarina sta cosa Mi piace un sacco Perché in effetti Hai gli occhi un po' coperti Quindi non ti riconoscono È curiosa E non lo sapevo neanche questa È molto curiosa Hai visto che cose interessanti Che ti lascio vedere Però non mi rubino il blocco Sinceramente me la sto facendo sotto No 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 Perché a me fanno una paura incredibile Quando attaccano C'è proprio il tuo peggiore incubo Quando loro ti attaccano Quindi non mi piace Sono abbastanza cattivi Per ragazzi Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao